La conferenza missionaria organizza da più di vent'anni dei campi estivi per giovani e subito dopo il terremoto del 12 di gennaio del 2010, visto la gravità di questo fenomeno, abbiamo pensato di metterci in contatto con la Caritas Haitiana per vedere dove potevamo e se potevamo essere d'aiuto. Siamo entrati così in colloquio con il Vescovo Pierandré Dumas, che è il presidente di Caritas Haiti, l'ho detto che con tanto piacere ci avrebbe ricevuti. Dopo più di quattro anni del terremoto, noi ad Haiti cerchiamo sempre di risollevarci. Come ben sapete, Haiti è un paese dove il tesoro più prezioso che abbiamo è la fede. Quindi il popolo di Haiti, in Dio, con questa gioia di cercare la presenza di Dio nella sua storia, in qualche modo cerca anche il cammino per poter uscire fuori da questo tunnel. Quindi ogni piccolo segno di speranza è un respiro per il popolo, è un sollievo. Quindi noi come chiesa, come pastori, come vescovi, anche con il popolo di Dio, i laici, i religiosi che sono presenti anche nel paese, cerchiamo di... sappiamo che siamo molto limitati, non ci sono i mezzi, le risorse mancano, però ogni piccolo segno è quasi un respiro insieme di tutta una comunità locale. Oggi c'è la coscienza che bisogna vivere il motto del paese che è l'unione farà forza. E quindi lì stiamo davanti a questa sfida di poter fare un paese. Ci sono molte aperture, ci sono attività, nuove strade, nuove case, una buona parte della popolazione che è stata sotto le tende è stata rialoggiata, però c'è ancora molto e molto da fare. Noi siamo ritornati ancora nel 2011 con il campo estivo e in questo momento noi stiamo sostenendo come chiesa, come conferenza missionaria, un progetto di riabilitazione per dei prigionieri di Ansavo, dove svolgono dei lavori di atelier di cucitura e di produzione di scarpe e inoltre con la diocesi stessa stiamo collaborando nella formazione degli agenti pastorali, soprattutto gli animatori delle comunità che sono al di fuori delle parrocchie, perché sono parrocchie che sono vastissime. E benché abbia già visto tanti paesi poveri, Haiti mi ha colpito. Cosa ti ha colpito in particolare? Ma perché sapevo che era un paese povero, ma l'ho immaginata un po' come certe zone depresse, non so, dalla Colombia o dall'Equadorio, invece Haiti è Africa, Africa profonda. Cioè tu dici Africa perché in Africa ci sei stato due anni e punti. Io ho trovato l'Africa, cominciando noi siamo andati nelle campagne, non ci siamo neanche fermati nella città, siamo andati su delle montagne, in una parrocchia e poi un po' più in basso in un'altra, allora in campagna la gente è nera, ma tanto nera. Si vede che questi schiavi non si sono mai mescolati né con i bianchi né con i nativi, perché veramente solo in certe parti dell'Africa si trova gente così scura di pelle. Poi tutto ricorda l'Africa. Le case. Le case sono capanne africane, un po' adattate, ci sono ancora quelle con la paglia, gli strumenti di lavoro, gli strumenti musicali, tutto ricorda l'Africa. Da pensare, sembrerebbe che quella gente lì sia stata portata lì 50 anni fa, non 500 anni fa. Io sono andata appunto con questo gruppo di missionari, ma anche come giornalista, quindi dentro di me c'erano un po' le due anime, quindi io mi sono avvicinata alle persone che intervistavo con queste due anime. E la cosa che forse mi ha più colpito era proprio il fatto che davanti al microfono la gente mi raccontava tante cose, ma poi mi diceva a un certo punto spegni il microfono o altro da dirti, e allora lì entrava in gioco in un certo senso la missionaria. Quindi credo di aver potuto cogliere in toto le persone tutto quello che avevano vissuto e che avevano da dirmi. Quando parto ho molte ansie, perché so che è un paese che incontra tantissime difficoltà, che non ha un governo stabile, che però ha tante risorse umane. E quando ci sono lì io mi tranquillizzo e quando torno sono pieno di entusiasmo. Abbiamo dato dei container come conferenza missionaria, sono un po' con il materiale scolastico. e anche là c'è tanto da fare, perché anche lì la scuola è un po' come quella africana. Allora la carenza, grande carenza di maestri, quindi bisogna prendere persone che hanno fatto un po' di scuola ma che non hanno nessuna formazione per insegnare. Quindi si arrangiano un po' ripetendo quello che hanno imparato loro, cioè insegnando come hanno imparato loro, quindi ancora quella ripetizione collettiva, esattamente come in Africa. e la carenza di materiale, mancano i gesti, mancano le matite, mancano le cose essenziali. Quindi lì sarebbe, oltre all'aiuto materiale, ci vorrebbe proprio qualcuno che vada là ad accompagnare un po' questi maestri. Ecco, questo però bisogna dire che a vivere a Ita è difficile. Noi nella parrocchia dove siamo stati, in cui c'erano stati dei missionari francesi per 30-40 anni, ma non c'è ancora l'acqua, abbiamo lavato ancora con lo sconellino, vanno a prendere l'acqua al fiume col camion e i bidoni, ma gente che sono poi, sono stati là i francesi tanti anni, cioè è anche difficile sopravvivere, nel senso che uno ci mette un sacco di tempo solo per l'igiene personale, per avere l'acqua, per preoccuparsi di se stesso, non è facile. Quando ero laggiù ho dovuto comunque prendere, affrontare questa realtà tremenda, perché vederla dalle telecamere è una cosa, esserci in mezzo un'altra. E quando sono tornata a casa ho proprio riflettuto su questo e mi sono detta, ma io che cosa voglio fare di questa Ita, di quello che io ho vissuto? E mi sono detta, in fondo il mio scopo è stato far parlare la gente, degli ultimi, la gente che non aveva voce. Allora sono tornata a casa e mi sono detta, perché li faccio parlare? Perché la gente qui, quella che non ha avuto la fortuna di essere come me laggiù, possa risvegliarsi, possa allontanarsi un po' dalle sue abitudini, accorgersi che c'è anche dell'altro, che c'è anche qualcuno che sta davvero male e che magari si può vivere in un modo diverso anche qui. Chi è andato ad aiutare, chi ha voluto aiutare e ha voluto fare del bene? Però non sempre si riesce a trovare quel modo lì di fare il bene. E quindi, io penso che al primo momento io sono intervenuto sia alla televisione che alla radio per dire attenzione, il mio popolo è un popolo martoriato, che vive un lungo calvario da molto tempo nella sua storia, è un popolo crocifiso nella sua calma. Però per aiutarlo bisogna rispettare la sua dignità, perché è un grande popolo che ha fatto quello che ha fatto nella storia. In questo senso avevo detto di non buttare dei viveri dagli elicotteri per far creare situazioni di scontri. qualcuno ascoltato, qualcuno si è arrabbiato, qualcuno era contento, perché anche nell'aiuto bisogna rispettare la dignità di un popolo, la dignità dell'essere umano che deve sempre avere il primato su tutto. E io corretto questo, io penso che adesso si tratta nel lungo andare, nei progetti a lungo termine. che tipo di cooperazione che vogliamo fare, che tipo di relazioni vogliamo costruire. Io vedo, ci sono modelli e modelli. Durante l'intervento ad Haiti ho scoperto che molte volte le relazioni erano molto più verticali, un grande che viene per aiutare. Anche a livello della nostra stessa caritas delle volte. C'è una grande caritas del null che vuole intervenire, che ha i soldi che ha raccolto, che ha aiutato, che voleva aiutare, che ha aiutato, però ha fatto quello che voleva fare. Invece ho visto che c'è un'altra forma di cooperazione umanitaria, missionaria, diciamo una forma di cooperazione tra virgolette caritatevole che si può istituire, è quella forma orizzontale dove siamo a pari, dove siamo partners, dove possiamo insieme elaborare qualcosa, dove i progetti nascono dal basso e insieme assumiamo. Ognuno apporta il suo contributo. La popolazione locale, anche se non c'è niente, c'è qualcosa da portare. E c'è un intercambio incredibile, c'è un arricchimento reciproco e lì si tratta di far crescere le popolazioni in un'umanità. Haiti è diventata una repubblica dipendente esattamente quando il Ticino è diventato cantone, nel 803-804 e la vita nel canton Ticino e Haiti nel 200 anni fa, 200 e 8 anni fa, probabilmente non era molto diversa perché noi siamo stati sfruttati per 300 anni e siamo stati colonizzati e nessuno si era preoccupato di costruire qualcosa per noi e là è stata la stessa cosa solo che Haiti è ancora così. Le strade di Haiti sono le strade di 200 anni fa, noi il Cottero di Stato di allora ha costruito strade e ponti, là non ci sono ponti, ecco, questo mi ha sorpreso, per esempio sulle strade principali che sono quasi tutte ancora in terra, quindi dissestate, conce, anche lì si arriva il fiume e si scende e si sale dall'altra parte ma quasi dappertutto è un paese che è stato lasciato abbandonato da se stesso. Dobbiamo correggere quel tipo di cooperazione nello stesso tempo bisogna creare laddove ci sono delle risorse locali creare la capacità nella gente di poter assumere la propria responsabilità di poter costruire delle vere istituzioni istituzioni che rispettino la persona umana che siano in funzione da persona umana per il suo bene e per il bene comune. Il Chad di 40 anni fa in cui sono stato per due anni non era così c'era più speranza lì ho trovato proprio un po' una rassegnazione dalla gente la gente mi sembra rassegnata i bambini stessi poi dopo si riesce a farli sorridere ma veramente c'è uno stato così di persone che hanno perso un po' la speranza io mi auguro che questa speranza la possano ritrovare anche se purtroppo sembra che anche questa ricostruzione sia stata fatta dagli altri pare che la gente sia stata coinvolta pochissimo anzi un po' gli intellettuali del luogo reclamano che noi non siamo stati nessuno lo stesso governo è stato un po' scavalcato anche nelle costruzioni poi le ONG e i grandi organismi costruiscono loro non chiedono niente a nessuno hanno fatto poter essere un'opportunità questa di ricostruire il paese e di dare un via un po' al rilancio ma purtroppo sembra che non sia andata così come insieme pensare il futuro di Haiti da adesso partendo da questa generazione per o sui prossimi 25 30 40 anni io penso che questo aspetto qua è quello che manca ad Haiti l'aspetto dove l'individuo non pensa unicamente a sé ma pensa nazione paese pensa futuro pensa il domani delle nuove generazioni è una chiesa molto aperta perché è una chiesa nata dai missionari 200 anni fa e vive ancora questo spirito missionario dentro se stessa ed è una chiesa molto viva molto vivace molto animata e penso che il Papa Francesco quando ha scelto gli ultimi cardinali ha scelto Monsignor Langlois proprio come riconoscimento per questa chiesa che vive che cammina e se non ci fosse la chiesa presente in Haiti probabilmente lo Stato sarebbe ancora il 12 gennaio del 2010 c'è una nuova strada l'umanità il mondo come va adesso così adesso con tanto di individualismo relativismo non ci piace vogliamo un nuovo mondo Haiti è come un piccolo microcosmo che dice facciamo diversamente le cose le facciamole sul serio facciamole per il bene delle nostre popolazioni erano giornate del malato e sono andati nelle case a visitare ma è così abbiamo visto anche l'interno delle case per dire tengono l'onore ma non c'è un armadio ma neanche nella missione c'è un armadio tutta la merce sopra un tavolo poi ci sono un sacco di matarazzi perché alla sera tirano giù i matirazzi in terra dormono lì sì è una vita perché poi loro stanno dentro gli africani perlomeno vivono molto fuori loro stanno più dentro nelle case quindi mi sembra quasi che sia più facile vivere in Africa per la gente noi sappiamo che Haiti era già prima molto vulnerabile la situazione del paese storicamente è marcata da questa precarietà delle risorse precarietà economica e con quella generosità della comunità nazionale con l'intervento immediato della nostra chiesa e tutto questo ha permesso al paese di poter ritrovare dentro di sé le risorse per uscire fuori però dopo questa prima fase era una fase di emergenza una fase di pronto intervento ora bisogna costruire sul futuro in questo senso credo che bisogna fare molto di più articolare fare insieme e soprattutto cercare di trovare un tipo di sviluppo che metta l'uomo al centro i progetti classici come li sviluppavamo in precedenza cioè quello di prenderci a carico delle parrocchie probabilmente non funziona più perché sono cambiati qui da noi la cultura le possibilità di impiego e ci stiamo un po' avvicinando l'idea di fare degli interventi mirati temporali e mirati quando si sono spinti i riflettori su quegli paesi è come lasciarli morire a diciamo a petit feu piccolo fuoco lentamente delle volte possiamo avere l'impressione di essere stati dimenticati dagli stessi amici che erano venuti a portarci soccorso gli aiuti e i media camminano insieme cioè quando la mano tesa non serve più perché la telecamera non c'è più allora la mano tesa si gira su un paese più mediatizzato e questo ad haiti era evidente già sei mesi dopo e lo è evidente ancora adesso dopo quattro anni ovviamente ancora di più questo padre francese che ho conosciuto che abitava in campagna mi dice ultimamente una volta almeno anche se eravamo comunque sconosciuti come realtà perché fuori dalla capitale quindi poco mediatizzati un po' di riso arrivava adesso io non ho veramente più il riso da distribuire non so come faremo a vivere ecco la gente è dignitosa è un popolo che ha sofferto e quindi adesso è veramente un popolo che bisognerebbe poter aiutarsi mai ho trovato tanta speranza come ad Haiti io è proprio la parola che mi ha accompagnato durante tutto il viaggio questa gente che aveva subito di tutto poi se pensiamo che dopo il terremoto sono arrivati ancora l'uragano il colere eccetera eppure la speranza era ed è ancora la parola che li segue e li fa andare avanti io se posso vorrei portare un esempio c'era una suora italiana che ha accompagnato i terremotati già prima ovviamente del terremoto per anni poi durante il terremoto e dopo è rimasta con loro dopo due anni ha visto uccidere davanti ai suoi occhi il suo collaboratore principale nel dispensario per un mese è andata all'estero per insomma riposarsi e riprendersi dallo shock e poi le è stato detto adesso ti mandiamo da un'altra parte un posto un po' più semplice e lei ha detto assolutamente no i ragazzi che stavano con me le persone che io ho accompagnato mi aspettano io ho questo compito la speranza ce l'hanno loro e la danno a me io sono il mio posto è lì io non posso non andare a vivere con loro a condividere davvero con loro il cammino questa suora è tornata in questo luogo di speranza io posso dirlo perché l'ho visitato e secondo me è davvero un luogo di speranza per continuare a vivere con loro e io mi dico già solo lei con la sua testimonianza per me è la speranza comunque l'Aitiano è un uomo pieno di speranza malgrado tutto e questo è qualcosa che sorprende perennemente è un uomo che sorprende è un uomo è un uomo che sorprende